Tutti sotto lo stesso cielo e con i piedi ben attaccati alla propria terra per tradizioni, eccellenze produttive, arte e cultura e con le medesime intenzioni, ovvero mostrare ed informare il più facilmente possibile il viaggiatore, il turista sempre più esigente e preparato, che si documenta bene sul luogo dove andrà e che ha ben chiaro in testa quali sono le proprie esigenze. Per emergere nello sconfinato mare magnum delle mete vacanziere e parlare all'unisono la stessa lingua e fare sistema. Con questo scopo tutti gli attori di questo scenario, associazioni, operatori commerciali e volontariato, per la prima volta si sono uniti per dar vita ad un unico progetto, tutto nuovo, alla scoperta dei tesori della provincia di Pesaro e Urbino. Sì, noi oggi abbiamo messo insieme tutte quelle associazioni di categoria della provincia di Pesaro e Urbino in un unico progetto dove parliamo di territorio, parliamo di gastronomia, di agricoltura, dove parliamo di tutto il nostro territorio e partiamo proprio oggi dalla presentazione di una mappa del territorio dove sono inclusi tutti i comuni del territorio, tutte le province, tutte le proloco del territorio dove parliamo insieme di promuovere tutto il territorio e credo che era necessario fare un progetto insieme perché l'unione fa la forza. Oggi nella sede della provincia è stato presentato il primo step di questo progetto, una cartina della provincia con i luoghi e i clusters che lo compongono, ma ci sono altre fasi e altri progetti in itinere. Allora, la prima, come dicevo, è proprio la presentazione oggi di questa cartina del territorio, la seconda sarà un opuscolo dove si parlerà dell'intero territorio provinciale e delle manifestazioni principali. La terza opzione è un video promozionale del territorio, un unico bacino, un unico sito internet che sarà pronto per la fine della prossima settimana. La provincia di Pesior Urbino ha tanto da offrire e non è seconda né alla Romagna né alla Toscana, tiene bene a precisare il suo presidente Giuseppe Paolini, uno che in termini di territorio non è secondo a nessuno, avendo contribuito negli anni settanta a far partire proprio da questa provincia il movimento biologico italiano. Io credo che sia la salvezza proprio del nostro territorio, del nostro turismo ed anche delle nostre aziende, fare il sistema. Cioè noi dobbiamo metterci in cieme e capire che prima di vendere il prodotto io devo vendere un territorio, una provincia, dopodiché il prodotto è molto più facile venderlo.